Pisa cariche contro il corteo degli studenti durante la manifestazione pro-palestina, la risposta delle forze dell'ordine, l'attenzione a Pisa, le manganellate agli studenti, poi i fatti di Firenze, quindi le opposizioni insorcono contro atti che vengono definiti inaccettabili con la richiesta unanime al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi affinché riferisca al più presto in Aula e chiarisca davanti a Parlamento l'accaduto. Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza nel corso della giornata in una nota ha fatto riferimento a momenti di tensione determinati dal mancato rispetto delle prescrizioni adottate dall'autorità, ovvero dal mancato preavviso o condivisione dell'iniziativa da parte degli organizzatori. In serata, dopo gli episodi accaduti in mattinata, a Pisa circa 5.000 persone si sono radunate in Piazza Cavalieri, proprio la piazza che era stata negata al corteo pro-Palestina di circa un centinaio di studenti. Proprio questa manifestazione di circa 100 studenti è all'origine delle cariche della polizia. Questi studenti infatti si erano riuniti a Piazza Cavalieri per manifestare contro il genocidio di Gaza e contro la violenza delle istituzioni. Dopo i fatti della mattinata, alcuni presidi si sono organizzati intorno alle 18 e assieme ad altri studenti, forze sindacali e politiche. Dal Palazzo del Comune della Prefettura sono partiti due cortei che si sono riuniti in Piazza dei Cavalieri. Sulla balaustra della scalinata della scuola normale di Pisa sono stati appesi striscioni con le scritte Stop genocidio, Palestina libera, basta violenza della polizia e no alla violenza delle istituzioni. Il sindaco di Pisa, Michele Conti, si dice amareggiato. Quello che è accaduto in città mi ha profondamente amareggiato, sostiene il sindaco Conti. Prima ancora che come sindaco, come cittadino e genitore, ho telefonato al questore prefetto per chiedere conto di quanto è avvenuto. A entrambi ho ribadito che chiunque deve essere libero di manifestare il proprio pensiero, sempre e comunque, e che Pisa da sempre è il luogo di incontro e di confronto. Le parole del sindaco di Pisa, Michele Conti. Così, come voglio ricordare, sostiene sempre il sindaco Conti, a tutti che la convivenza pacifica è assicurata in primo luogo dal rispetto delle regole e chi non le rispetta va sanzionato. Come mi auguro avvenga per chi si è reso conto del blitz sulla nostra torre di qualche settimana fa, sottolinea il sindaco di centrodestra. Ma mai in alcun modo si può usare la violenza per reprimere una manifestazione di ragazzi e ragazze delle scuole superiori, così come non si può usare la violenza per imporre una propria idea.